E' avvenuto un fatto nuovo per il podcast, una tragedia, ho sbagliato, ammetto. Qualche giorno dopo l'uscita sulla puntata di Venere, mi è arrivato un messaggio, un messaggio in cui diceva che Clara Barton non è la fondatrice della Croce Rossa italiana, ma la fondatrice della Croce Rossa americana, nata nel 1821 e morta nel 1912. Io chiedo scusa a tutti voi per avervi deluso in questo fatto e chiedo in mente scusa in tutta la mia onestà. Ovviamente a me ha fatto soltanto piacere ricevere la notizia che qualcuno ha ascoltato il podcast, mi ha fatto molto piacere interagire un attimo con voi, con tutti voi, quindi vi invito se trovate qualsiasi cosa che possa essere sbagliato oppure che non avete capito molto bene di scrivermelo così si può fare una puntata anche soltanto dedicata a un argomento in particolare, oppure se volete anche delle puntate dedicate a qualche approfondimento, se c'è qualcosa che vi interessa in particolare io vi invito a scriverla. Quindi avete la pagina Instagram, la pagina Facebook e il canale YouTube, ci potete contattare sul sito in qualsiasi modo e per, se avete voglia di sentire qualcosa in particolare, a me fa soltanto piacere. Quindi grazie, io ringrazio la ragazza che mi ha scritto per correggere questa cosa, spero che questo sia sentito da tutti in modo tale che così venga aggiustato, spero sia passato il messaggio che stavo scherzando, sì chiedo, ho sbagliato, devo chiedere scusa, però mi ha fatto soltanto piacere riuscire a entrare in contatto con chi sta ascoltando il podcast. Quindi ancora grazie e noi ci vediamo con la prossima puntata. Mi raccomando invece di seguirci sulle nostre pagine Instagram, Facebook e sul sito del Planetario perché ci sono importanti novità sulla scuola di astronomia, quindi chiunque fosse interessato ad approfondire la scuola di astronomia più nel particolare, oppure l'astronomia proprio come materia, un attimo più nello specifico, io li invito a guardare la pagina Facebook del Planetario e il sito in cui è spiegato un po' più nel particolare che cosa si va ad affrontare come argomenti e quali sono i corsi di quest'anno. Vi starete chiedendo, ma quindi questa puntata da 3-4 minuti per cosa è stata fatta? In realtà ho colto le scuse, l'occasione di fare le scuse anche per fare pubblicità al Planetario, quindi venite a seguirci su Planetario, venite a guardare cosa stiamo facendo al Planetario.